Bene, in questo brevissimo video vorrei dimostrare una relazione interessante di cui ho parlato in precedenza, e cioè un modo approssimato per calcolare la radice quadrata di numeri nella forma a quadro più 1 è all'incirca a più 1 fratto 2 volte a. Dimostrerò questa relazione tramite le frazioni continue, lo sviluppo in frazioni continue di questa particolare forma di radice quadrata e poi cercherò di generalizzarla, mostrando poi un piccolo modo in Python per verificare che tutto questo funziona almeno in una certa approssimazione. È interessante perché è un uso delle frazioni continue che normalmente non si fanno a scuola, invece hanno secondo me un grande valore anche didattico. Quest'anno ho avuto la fortuna di ereditare una seconda in cui ho due ore di potenzialmente matematica e quindi sto provando a fare cose di questo tipo. Sarà anche chiaro perché questa forma è particolarmente interessante, la sua generalizzazione è anche interessante ma meno efficace. Radici quadrate di questo tipo sono per esempio la radice quadrata di 2, la radice quadrata di 5, la radice quadrata di 10 eccetera eccetera eccetera. Proviamo a dimostrarla, allora supponiamo di considerare il numero radice quadrata di a al quadrato più 1, quindi sia questo numero per esempio x. Di conseguenza possiamo anche scrivere che x al quadrato è uguale ad a quadro più 1. No, perché levando a quadrato la radice va via. Portiamo questo a quadro a sinistra, x al quadrato meno a al quadrato è uguale a 1. Questa è la differenza di quadrati, quindi si può scrivere come x meno a per x più a uguale a 1. Dividiamo per x più a che è sicuramente diverso da 0, quindi abbiamo x meno a uguale a 1 fratto x più a e infine portiamo questo meno a a sinistra per ottenere x uguale a più 1 fratto, lo riscrivo come a più x. Questo è interessante perché è una formula ricorsiva, dopo la prova a implementare in python, l'idea è che se io conosco il valore di x approssimato posso inserirlo qui dentro e ottenere un valore migliore. Il tutto è legato alle frazioni continue perché utilizzando l'idea di sostituire tutta questa espressione all'interno della x, otteniamo che x è uguale ad a più 1 fratto, allora avrai a più tutto questo, quindi viene 2a più 1 fratto e di nuovo a più tutto questo e così via. E quindi otteniamo una classica frazione continua infinita, che va quindi all'infinito. Questo sarebbe il valore esatto di x che ricordo è la radice quadrata di questo numero particolare. Essendo irrazionale questa frazione continua è appunto infinita, quindi non ha mai termine. Da un punto di vista pratico possiamo usare questa come una sorta di formula ricorsiva. Quindi all'approssimazione, questa è una frazione 1 fratto a più x è sicuramente minore di 1, quindi la parte, come dire, dopo la virgola della nostra radice. Quindi in prima approssimazione possiamo dire che x è circa a, se trascuriamo questa parte. A questo punto possiamo fare meglio e usare di nuovo la relazione al posto di questa x a destra, mettere l'approssimazione precedente e quindi avere x circa a più 1 fratto 2a. Questa è proprio la formula dove ci siamo fermati al primo passaggio di iterazione. E come farò vedere in un attimo facendo un piccolo programmino in python, la cosa funziona piuttosto bene. Soprattutto per a grandi questa è una buona approssimazione, quindi mentre per la radice quadrata di 2. Esempio. La radice quadrata di 2 la posso scrivere come radice di 1 più 1, quindi 1 è il nostro a. Di conseguenza questa è all'incirca 1 più 1 fratto 2 volte a, cioè 1, che è 1,5. Tre mezzi, no? E noi sappiamo che in realtà la radice quadrata è 1,414 eccetera eccetera eccetera. Quindi per la radice quadrata di 2 l'approssimazione è del 10% circa, è sulla prima cifra decimale. Però se uno va per esempio a radice quadrata di 5 o radice quadrata di 10 vedremo tra un attimo che più vado avanti più l'approssimazione diventa buona. Quindi questo è un modo per ottenere un'approssimazione di una radice quadrata particolare e tutto sommato accettabile. Inoltre è migliorabile nel senso che io potrei non fermarmi a questa approssimazione che è molto facile da ricordarsi, anche abbastanza elegante, no? a più 1 fratto 2 volte a. Potrei andare avanti e sostituire al posto di x questa espressione, cioè avere un'ulteriore approssimazione ancora migliore che è data da a più 1 fratto a più tutto questo. Quindi viene 2a più 1 fratto 2a. Che se uno guarda è esattamente lo sviluppo in frazione continua infinita dove mi fermo al secondo piano qua sotto. E quindi potrei in realtà migliorare notevolmente la mia approssimazione aggiungendo dei termini successivi. Ma già questo, mostrerò dopo, è, ripeto, una buona approssimazione. Prima di mostrare il codice e fare due esperimenti banali per vedere come la cosa funziona, è possibile generalizzare, perché questo chiaramente mi dà una tecnica numerica per radici quadrate di una forma particolare, 2, 5, 10. Se io dovessi fare radici quadrata di 3 o di 7 o di 15 per esempio, non rientriamo in questo caso. Ebbene si può generalizzare ottenendo qualcosa che non è altrettanto buono ma comunque utilizzabile. E l'idea è praticamente la stessa. Immaginiamo di voler calcolare la radice quadrata di un numero che non sia un quadrato perfetto, è un quadrato esatto e quindi sarà sempre possibile scriverlo come a al quadrato più b. Quindi la nostra x sia in questa forma, quindi a questo punto può essere qualsiasi cosa, per esempio la radice quadrata di 7 la posso scrivere come la radice quadrata di 4 più 3 e cioè la radice quadrata di 2 al quadrato più 3. Quindi in questo caso a è 2 e b è 3. Quindi qualunque numero, stiamo parlando chiaramente di numeri interi, anzi naturali, qualunque numero può essere sempre scritto come un quadrato più una sorta di resto rispetto al quadrato. Il caso fatto finora era con b uguale a 1 ed era il caso migliore. Perché era il caso migliore? Perché questa parte che io vado a trascurare ha il numeratore 1 1 e quindi è tutto sommato piccola rispetto ad a. Quindi l'approssimazione risulta sin da subito buona, mentre come vedremo adesso questo non avviene in questo caso. Quindi trattiamo questo caso generale, beh sarà praticamente identico a prima. Posso fare x al quadrato che è uguale ad a al quadrato più b, ecco perché si cerca di esplicitare un quadrato, no? Perché portando a sinistra posso sfruttare il prodotto notevole, cioè la differenza di quadrati. Cose che si fanno in prima. Questo x quadro meno quadro lo scrivo come x meno a per x più a uguale a b e come prima alla fine ottengo che x è uguale ad a più b, la differenza sta qua, di a più x. Quindi di nuovo ho trovato una forma iterativa, dove però questa volta questo b fratto a più x è sì una frazione, b è sicuramente più piccolo di a al quadrato, ma non è detto che trascurare questo termine sia effettivamente una cosa buono da un punto di vista numerico. Quindi posso agire come prima, cioè posso dire in prima istanza x è circa a, già qua vedete faccio un errore abbastanza importante perché mentre nel caso che abbiamo analizzato all'inizio, che è questo, effettivamente la radice quadrata di a al quadrato più 1, se a è grande questo 1 è trascurabile rispetto ad a al quadrato, e quindi la radice di questo è circa a in prima battuta, qua questo b può essere anche grande. Ok? Quindi questa approssimazione potrebbe non essere buona. È chiaro che a questo punto il trucco è lo stesso di prima, cioè posso andare avanti e scrivere questo come a più b fratto al posto di x e metto la approssimazione al passo precedente, quindi viene 2a. Quindi vedete, è uguale ma con un b. Di nuovo, ripeto, siccome qua non c'è 1, potrebbe non essere una buona approssimazione. Però a questo punto posso sempre ovviare al problema andando un po' avanti, cioè facendo un'ulteriore approssimazione, e se poi non mi accontento posso andare avanti quanto voglio. Chiaramente non all'infinito, ma anche in questo caso, in linea di principio, essendo un numero irrazionale, dovrei andare avanti all'infinito se volessi avere il valore esatto. Si chiamano appunto frazioni continue infinite. Quindi anche il metodo visto prima è generalizzabile, non funziona altrettanto bene rispetto al caso a quadro più 1. Si possono fare alcuni piccoli test, vediamo se riesco a mostrare qualcosa. Bene, questo è il mio ambiente di sviluppo, non è necessario usare Python, uso Python perché è il linguaggio che stiamo utilizzando nella mia classe di potenziamento, ma andrebbe bene anche carta e penna, una calcolatrice, qualunque cosa. Quindi con Python abbiamo la possibilità però di fare calcoli velocemente generalizzando il problema. Quindi proviamo a definire una funzione, chiamiamola sqrt, che ha come argomenti a, di a quadro più 1, del numero che vogliamo calcolare, e il numero di iterazioni. Io poi mi fermerò alla seconda, però rendiamo il tutto generale. Quindi l'idea è di costruire una funzione ricorsiva. Quindi se n è uguale a 1, n è uguale a 1, quindi la prima approssimazione restituisce semplicemente a. altrimenti restituisce a più 1 fratto aperta tonda a più e vedete che richiamo la stessa funzione solo che n meno 1. In questo modo ho costruito una funzione ricorsiva che chiama se stessa affinché non arriva a 1, partendo da n. Chiaramente non ci sono controlli, di una funzione pericolosa perché basta dare in ingresso valori non corretti e non coerenti e la funzione non funziona, ma stiamo solo facendo un brevissimo video. Proviamola subito, proviamo a calcolare la radice quadrata, usiamo come... Oh, niente, stasera la tastiera è andata. Proviamo a usare 1 come A, quindi sto calcolando la radice quadrata di 1 al quadrato più 1, cioè 2. Allora, al primo livello di approssimazione è 1, al secondo livello è 1,5 che è appunto 1 più 1 mezzo. Questa è la formula che avevo scritto precedentemente e da qui è partito questo video, ma volendo si può andare anche oltre. Per esempio, mettendo 10, si ha un valore approssimato di radice quadrata di 2 che sembra effettivamente assomigliare molto a quello che dovrebbe essere. Per essere sicuri, importiamo la libreria matematica di Python e andiamo a vedere il valore della radice quadrata di 2 che mi dà Python e come vedete sono molto vicini. Non identici, ma vicini. Potrei anche provare a fare la differenza, no? cioè fare questo o meno SQRT Facciamo al livello di approssimazione che ho dato io vedete la differenza è di 0,08 segno meno perché una delle due è più grandi e l'altra è più piccola. Ma è chiaro che potrei vedere cosa succede invece all'elemento successivo per esempio se usassi anziché 1 mettessi 2 sto calcolando la radice quadrata di 2 al quadrato più 1 cioè di 5 quindi nel caso di 5 l'errore è più basso vedete 0,01 possiamo provare per esempio a mettere qua 5 qui sto calcolando la radice quadrata di 5 al quadrato più 1 che è 26 quindi la differenza tra la libreria di Python e la mia e la mia implementazione a questo punto è sulla terza essenzialmente cifra decimale ok? Quindi vedete che la cosa più il valore di A è alto effettivamente più l'errore che commetto è piccolo si potrebbe anche dimostrare anzi quasi sicuramente lo farò poi in classe se aumento il numero di iterazioni l'errore diventa addirittura adesso non è esattamente 0 è semplicemente la precisione con cui lui sta mettendo ad output al monitor il valore però è sicuramente molto piccolo prendersi conto di questa cosa in maniera un po' più ottimale possiamo anche fare così facciamo un ciclo for in range 1,20 e proviamo a vedere cosa succede se faccio quindi qui dovrò mettere i al quadrato più 1 e qui dovrò mettere i adesso vado a vedere nei primi 20 valori di i quello che ho chiamato prima A nei primi 20 valori qual è la differenza tra la routine che utilizza Python e la routine che abbiamo fatto noi approssimata ops manca l'ai scusate stasera non sono in vena e chiaramente devo dirgli print se no non si legge niente ecco come vedete andando avanti l'errore diminuisce fino ad arrivare addirittura a una quinta cifra dopo la virgola 10 a meno 5 quando arriviamo a 20 cioè la radice quadrata di 401 che quindi è molto molto precisa con l'approssimazione A più 1 fratto 2A va bene lascio come esercizio generalizzare questa funzione al caso in cui il numero non sia nella forma A al quadrato più 1 ma sia nella più generica forma al quadrato più B sarà facile verificare che l'approssimazione al diciamo il primo step non è così buono come abbiamo ottenuto prima direi che per stasera è più che sufficiente e buon sabato notte a tutti e a tutte arrivederci grazie a tutti Grazie.